ok non avrò la minima idea di come verrò in questo video perché la fotocamera è lontanissima e senza occhiali non vedo una cippa di niente per cui se dovessi avere i capelli in un modo assurdo ragazzi scusatemi e what are you a tutti sure me benvenuti da giocherina in questo nuovissimo video unboxing ebbene ragazzi quello che vi andrò ad unboxare oggi è questo pacchetto qui e si tratta di un libro praticamente quindi probabilmente adesso la maggior parte delle persone chiuderà il video così in tronco proprio tac denetto sulla x di un libro ragazzi che però riguarda kingdom hearts per cui non appena l'ho visto non ho potuto che comprarlo anche perché comunque il prezzo è super accessibile ragazzi costa poco più di 20 euro l'ho comprato su multiplayer.com e piccola parentesi no non mi hanno spedito il libro gratuitamente vi ho appena letto che l'ho comprato e non vi sto dicendo dove l'ho comprato perché mi hanno chiesto di fare pubblicità al sito no ragazzi vi spiego come sono andate le cose in pratica mi è uscito il post sponsorizzato ovviamente su instagram che appunto il 6 giugno sarebbe a dire oggi il giorno in cui sto registrando il video sarebbe stato disponibile appunto questo libro qua quindi cioè mi è uscito praticamente il post di vendita su instagram per cui non è che mi sono venuti a cercare con le multiplayer a dire oh ma vuoi sponsorizzare il prodotto te lo mando assolutamente no quindi è un acquisto fatto volontariamente dalla sottoscritta perché sapete benissimo ragazzi che kingdom hearts rimane uno dei miei videogiochi preferiti in assoluto il libro si chiama la leggenda di kingdom hearts la creazione libro 1 libro 1 perché ragazzi poi uscirà anche un secondo volume se non sbaglio mi sembra di aver letto tipo l'anno prossimo una roba del genere quindi è stato diviso in due parti praticamente di che cosa si tratta ragazzi di un tomo che racchiude tutta la storia di come si è venuto a formare kingdom hearts cioè praticamente tutta la creazione appunto che c'è stata dietro l'idea di kingdom hearts quindi come quelli magari della square enix si siano poi legati a quelli della disney come si è nato il tutto e quindi ovviamente siccome la cosa mi intriga parecchio quindi sono parecchio interessata a questa cosa visto che kingdom hearts è uno appunto dei miei videogiochi preferiti non potevo non comprarlo io sinceramente mi aspettavo che il libro fosse un pochettino più grande effettivamente e quindi quando è arrivato il corriere col pacco mi sono rimasta un attimo così un attimo interdetta perché pensavo fosse molto più grande vi ripeto però da un lato meglio nel senso che così è più piccolino non occupa poi così tanto spazio però visto quello che uno si aspetta magari uno se l'aspettava un po' più grande bando alle ciance ragazzi non perdiamo più tempo andiamo ad aprire questo pacco e a sfogliare un pochettino questo libro ok ragazzi eccoci qua andiamo ad aprire questo pacco con le mie fedelissime forbici farò un taglio su questo unico scotch che racchiude questo libro anzi ce n'è ancora un pochettino effettivamente direi di tagliarlo via ecco fatto tatatatatata ed eccoci qua ragazzi allora questo qua però dai è bellino è bellino non posso dire niente togliamo questa scatola ed eccolo qua devo abbassare un po' la luminosità perché sennò vedete tipo la luce divina eccolo qua la leggenda di kingdom hearts volume 1 creazione la copertina come potete vedere ragazzi è tutta bianca qua sotto c'è scritto il prezzo però ragazzi sul sito aveva un pelino di sconto infatti io l'ho pagato poco più di 20 euro sarebbe a dire tipo 21 euro perché sennò costerebbe 25 ma comunque non credo sia un prezzo davvero eccessivo non so se riuscirete a leggere quello che c'è scritto le più significative del nostro tempo non mette a fuoco era davvero impossibile concentrare tutto in un unico libro appunto quello che ho detto io prima e ignorare ogni minimo dettaglio della genesi di kingdom hearts il volume 1 vi racconterà tutto quello che c'è da sapere sull'origine di questa serie unica nel suo genere perfetto allora direi di dare una sfogliatina a questo libro vediamo se riesco ragazzi ok qua c'è la prima pagina totalmente in nero la leggenda di kingdom hearts c'è tutta una prefazione ragazzi ovviamente e dopodiché qua si incomincia col capitolo 1 che si chiama l'architetto ovviamente questo non sembrerebbe essere un libro adatto a chi non è amante della lettura ragazzi perché io mi aspettavo che ci fosse almeno qualche figura vi dirò la sincera verità ma così non è è un libro totalmente scritto mo ci vuole citiamo come fai a leggerlo non ci sono figure ci sono persone che usano l'immaginazione gaston e quindi qui bisogna usare tante immaginazioni ragazzi perché come potete vedere non c'è nessuna figura ci sono la bellezza di sei capitoli e appunto quasi di 400 pagine ragazzi di insomma curiosità sulla nascita di kingdom hearts questo ovviamente io me lo dovrò leggere con molta calma quando avrò tanto tempo direi da dedicarli o comunque leggere ogni tanto piano piano per cui che dire sono delusa non sono delusa no non dire di essere delusa perché comunque è quello che prometteva di essere cioè sarebbe a dire un enorme direi libro su appunto la creazione che spiega la creazione di kingdom hearts sono un pelino delusa nel senso che pensavo di vedere qualche figura ma effettivamente che figure ci dovevano mettere in un libro che spiega come è nato kingdom hearts cioè sarebbe stato totalmente inutile per cui forse me lo sarei dovuto pure un po' aspettare però fa niente ragazzi io penso che vale i soldi che costa anche perché appunto ripeto il prezzo non è così proibitivo però per gli amanti di kingdom hearts questo sicuramente penso sia un acquisto quasi dovuto specialmente se la persona in questione è interessata a sapere come effettivamente è nato il suo videogioco preferito quindi che dire ragazzi sicuramente ovviamente quando uscirà sarò costretta tra virgolette a comprare anche il volume 2 visto che ho comprato il volume 1 insomma sarebbe brutto non comprare pure la parte 2 anche perché di sicuro ci saranno tantissime cose interessanti anche lì io spero che questo video vi sia piaciuto per cui questo video termina qui grazie a tutti un bacione un bacione a tutti ragazzi ciao